Voi residenti, che cosa avete chiesto questa mattina, Giorgio? Dopo aver fatto una premessa su quello che è stato fatto, abbiamo chiesto due cose semplici, una o l'altra. Un tutor, perché secondo la legge dell'anno scorso si possono mettere anche nei centri urbani. Se non fosse possibile e il prefetto non dà l'ok, allora l'alternativa sono vigili, 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 durante le ore di punta, a fare prevenzione prima e poi multe. Ma in entrambi i casi togliere quello che è stato realizzato? Naturalmente sì, perché togliendo tutto si ritorna all'antico, le biciclette possono passare di nuovo come vogliono, le carrozzine possono passare, cosa che in questo momento è impossibile perché è estremamente pericolosa. Che cosa è emerso dall'incontro di questa mattina? I residenti, alcuni residenti, con noi consiglieri comunali della Lega, io e Gianluca Chilare, abbiamo incontrato la Giunta e abbiamo cercato di capire se questa soluzione del ristringimento fosse l'unica soluzione possibile o ci fossero delle alternative. Noi abbiamo proposto l'utilizzo di un tutor che permette di misurare la velocità media delle auto, quindi è possibile calcolare il tempo di transito dall'inizio di Via Trave alla fine e stimare la velocità con cui è stata attraversata. Quindi il sindaco si è fatto carico di sentire il prefetto perché in questo caso l'installazione di queste apparecchiature richiedono l'autorizzazione del prefetto. Quanto è stato speso complessivamente per l'intervento e quali sono ad oggi i disagi? Per le due strettoie e quello che io chiamo il frisbee della discordia è stato spero circa 40.000 euro. E quello che è emerso durante l'incontro con i residenti, le difficoltà e i disagi che stanno subendo i residenti sono essenzialmente legati alla difficoltà che hanno i bambini con le biciclette, i genitori con le biciclette e i disabili a dover affrontare queste strettoie perché per evitare il diretto contatto con le auto che strecciano molto vicine, che passano molto vicine, sono costretti a passare lateralmente, a girare all'ostacolo dove c'è poco spazio e non è predisposto sia per le biciclette che per le carrozzelle. Vorrei aggiungere una cosa, spero che questa esperienza ci aiuti a non fare lo stesso errore su altre strade come quella per esempio di Brigata Messina in cui si sta pensando anche lì di applicare le strettoie. Noi speriamo che questa lezione serva per evitare altri errori.